La guerra cosmica Negli ultimi decenni sono sorti i dibattiti intorno al tema di un ipotetico conflitto avvenuto in epoche antichissime su scala cosmica, esteso in tutto il nostro sistema solare e forse anche oltre, e che avrebbe provocato danni anch'essi su scala cosmica. Vi sono diverse evidenze che tendono a sostenere questa ipotesi. Se sono note da millenni le leggende sulle guerre tra gli dèi o tra gli uomini con il sostegno di dèi rivali, come nell'Iliade, questo campo è stato ampliato in tempi relativamente recenti con gli antichi testi scoperti in Mesopotamia nel XIX secolo e poi decifrati. Ma sono immerse anche evidenze fisiche a partire dalle osservazioni astronomiche dei primi dell'Ottocento in poi, che hanno stabilito prima l'esistenza e poi le caratteristiche della fascia degli asteroidi. Trattandosi di scenari che contrastano con i modelli convenzionali rispetto alle realtà vere o presunte della storia dell'uomo e del cosmo, occorre affrontare l'argomento in modo sistematico, presentando evidenze ed argomentazioni che non si possono liquidare in poche battute. A questo proposito presenteremo le tesi trattate da diversi autori e in particolare da Joseph Farrell, uno dei ricercatori più puntuali nel campo delle analisi non convenzionali. Egli ha avuto il merito di illustrare in una serie di libri scenari astronomici e storici, partendo dai dati raccolti, distinguendo, peraltro, tra ricostruzioni che possono sembrare più attendibili e quelle che sono magari più speculative. Quando si sollevano argomenti così disparati come gli Anunnaki, lo scontro tra pianeti, la natura delle comete e degli asteroidi, le guerre tra gli dèi, i cicli cosmici, le antiche tecnologie avanzate, le lune artificiali, le creature chimiche, la faccia su Marte, i reperti archeologici anomali, il diluvio universale e il mito di Atlantide, dobbiamo purtroppo constatare la tendenza a fare spesso un grande minestrone senza poi venirne a capo. Si cercherà, quindi, di sbrogliare la matassa tra i vari aspetti che vengono troppo spesso proposti o magari anche negati in maniera del tutto aprioristica. Per fare ciò, passeremo in rassegna elementi del campo dell'astronomia e della fisica, oltre alle evidenze tratte dal campo della mitologia e delle religioni. Possiamo riassumere in una serie di domande gli argomenti che saranno affrontati. Esistono evidenze tali da poter affermare, almeno come ipotesi di lavoro, che siano avvenute realmente delle guerre su scala interplanetaria in un lontano passato? Poi, chi avrebbe combattuto in queste guerre ipotetiche? Perché combattevano? Di quali armi si servivano? Quali erano gli effetti di queste armi? Chi ha vinto e chi ha perso? Chi è sopravvissuto? E quei soggetti hanno tramandato una qualche eredità? E, infine, cosa importante, chi erano i buoni e chi erano i cattivi? E perché erano a considerarsi buoni oppure cattivi? Ecco che nelle puntate della serie cercheremo di rispondere, più o meno in ordine, a queste domande alquanto impegnative. Per ora, grazie e alla prossima! Per ora, grazie e alla prossima! Per ora, grazie e alla prossima! Grazie a tutti!